Tomasi di Lampedusa, il gatto pardo. Appena seduto, Chevalier espose la missione della quale era stato incaricato. Dopo la felice annessione, volevo dire dopo la fausta unione della Sicilia al regno di Sardegna, è intenzione del governo di Torino di procedere alla nomina senatori del regno di alcuni illustri siciliani. Le autorità provinciali sono state incaricate di redigere una lista di personalità da proporre all'esame del governo centrale, ed eventualmente poi alla nomina reggia, e come è noto, a Girgenti si è subito pensato al suo nome, principe. Un nome illustre per l'antichità, per il prestigio personale di chi lo porta, per i meriti scientifici, per l'attitudine dignitosa e liberale, anche, assunta durante i recenti avvenimenti. Il discorsetto era stato preparato da tempo, anzi era stato oggetto di succinte note a matita sul calepino che adesso riposava nella tasca posteriore dei pantaloni di Chevalier. Don Fabrizio, però, non dava segno di vita. Le palpebre pesanti lasciavano appena intravedere lo sguardo. Immobile, la zampaccia dai peli biondastri ricopriva interamente una cupola di san pietro in alabastro che stava sul tavolo. Ormai, avvezzo alla sornioneria dei loquaci siciliani, quando si propone loro qualcosa, Chevalier non si lasciò smontare. Prima di far pervenire la lista a Torino, i miei superiori hanno creduto dover informare lei stesso e farle chiedere se questa proposta sarebbe di suo gradimento. Richiedere il suo assenso, nel quale le autorità sperano molto, è stato l'oggetto della mia missione qui. Missione che peraltro mi avvalso l'onore e il piacere di conoscere lei ed i suoi, questo magnifico palazzo e questa donna fugata, tanto pittoresca. Le lusinghe scivolavano via dalla personalità del principe come l'acqua dalle foglie delle infee. Questo è uno dei vantaggi dei quali godono gli uomini che sono nello stesso tempo orgogliosi ed abituati ad esserlo. Adesso questo qui si immagina di venire a farmi un grande onore, pensava. A me che sono quel che sono, fra l'altro anche pari del regno di Sicilia, il che deve essere pressa poco come essere senatore. È vero che i doni bisogna valutarli in relazione a chi li offre. Un contadino che mi dà il suo pezzo di pecorino mi fa un regalo più grande di Giulio Lascari, quando mi invita a pranzo. Il guaio è che il pecorino mi dà la nausea, e così non resta che la gratitudine che non si vede e il naso arricciato dal disgusto che si vede fin troppo. Le idee sue, in fatto di senato, erano del resto vaghissime, malgrado ogni suo sforzo, essero riconducevano sempre al senato romano, al senatore Papirio, che aveva spezzato una bacchetta sulla testa di un gallo maleducato. A un cavallo, incitatus, che Caligola aveva fatto senatore. Onore, questo, che soltanto suo figlio Paolo non avrebbe trovato eccessivo. Lo infastidiva anche riaffacciarsi insistente di una frase detta talvolta da padre Pirrone. Senatores boni viri, senatus autem malabestia. Adesso vi era anche il senato dell'impero di Parigi, ma non era che un'assemblea di profittatori muniti di larghe prebende. Vi era, o vi era stato, un senato anche a Palermo, ma si era trattato soltanto di un comitato di amministratori civici, e di quali amministratori. Robetta Beronzalina. Vole sincerarsi. Ma insomma, cavaliere, mi spieghi un po' che cosa è veramente essere senatori. La stampa della passata monarchia non lasciava passare notizie sul sistema costituzionale degli altri stati italiani, e un soggiorno di una settimana a Torino due anni fa non è stato sufficiente a illuminarvi. Cosa è? Un semplice appellativo onorifico, una specie di decorazione, o bisogna svolgere funzioni legislative deliberative? Il piemontese. Il rappresentante del solo stato liberale italiano si inalberò. Ma, principe, il senato è la camera alta del regno. In essa il fiore degli uomini politici del nostro paese, prescelti dalla saggezza del sovrano, esaminano, discutono, approvano o respingono quelle leggi che il governo, o essi stessi, propongono per il progresso del paese. Esso funziona nello stesso tempo da sprone e da briglia, incita al benfare, impedisce di strafare. Quando avrà accettato di prendervi posto, lei rappresenterà la Sicilia alla pari dei deputati eletti, farà udire la voce di questa sua bellissima terra che si affaccia adesso al panorama del mondo moderno, con tante piaghe da sanare, con tanti giusti desideri da esaudire. Chevalier avrebbe forse continuato a lungo su questo tono, se Bendicò non avesse da dietro la porta chiesto alla saggezza del sovrano di essere ammesso. Don Fabrizio fece l'atto di alzarsi per aprire, ma lo fece con tanta mollezza da dar tempo al piemontese di lasciarlo entrare lui. Bendicò, meticoloso, fiutò a lungo i calzoni di Chevalier. Dopo, persuaso di avere a che fare con un buon uomo, si accovacciò sotto la finestra, e dormì. — Stia a sentirmi, Chevalier. Se si fosse trattato di un segno di onore, di un semplice titolo da scrivere sulla carta da visita e basta, sarei stiato lieto di accettare. Trovo che in questo momento decisivo per il futuro dello Stato italiano è dovere di ognuno dare la propria adesione, evitare l'impressione di screzzi dinanzi a quegli Stati esteri che ci guardano con un timore o con una speranza che si riveleranno ingiustificati, ma che ora esistono. — Ma allora, principe, perché non accettare? — Abbia pazienza, Chevalier. Adesso mi spiegherò. Noi siciliani siamo stati avvezzi da una lunghissima egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro. Se non si faceva così, non si sfuggiva agli esattori bizantini, agli emili berberi, ai vicere spagnoli. Adesso la piega è presa. Siamo fatti così. Avevo detto adesione, non partecipazione. In questi ultimi sei mesi, da quando il vostro Garibaldi ha posto piede a Marsala, troppe cose sono state fatte senza consultarci perché adesso si possa chiedere a un membro della vecchia classe dirigente di svilupparle e portarle a compimento. Adesso non voglio discutere se ciò che si è fatto è stato male o bene. Per conto mio credo che parecchio sia stato male, ma voglio dirle subito ciò che lei capirà da solo, quando sarà stato un anno fra noi. In Sicilia non importa far male o far bene. Il peccato che noi siciliani non perdoniamo è semplicemente quello di fare. Siamo vecchi, cevalier, vecchissimi. Sono venticinque secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee. Tutte venute da fuori, già complete e perfezionate, nessuna germondiata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato il là. Noi siamo dei bianchi quanto lo è lei, cevalier, e quanto la regina d'Inghilterra. Eppure da duemila cinquecento anni siamo colonia. Non lo dico per regnarmi. È in gran parte colpa nostra. Ma siamo stanchi e svuotati lo stesso. Adesso cevalier ha turbato. Ma ad ogni buon modo questo adesso è finito. Adesso la Sicilia non è più terra di conquista, ma libera parte in un libero stato. L'intenzione è buona, cevalier ma tardiva. Del resto le ho già detto che in massima parte è colpa nostra. Lei mi parlava poco fa di una giovane Sicilia che si affaccia alle meraviglie del mondo moderno. Per conto mio mi sembra piuttosto una centenaria trascinata in carrozzella alla esposizione universale di Londra, che non comprende nulla, che si impipa di tutto, nelle acceglierie di Sheffield, come delle Finlande di Manchester, e che agogna soltanto di ritrovare il proprio dormiveglia fra i suoi cuscini sbavati e il suo orinale sotto il letto. Parlava ancora piano, ma la mano attorno a San Pietro si stringeva. L'indomani, la crocetta minuscola che sormontava la cupola venne trovata spezzata. Il sonno, caro cevalier, il sonno è ciò che i siciliani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali, sia detto fra noi, o i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente. La nostra sensualità è il desiderio di ubrio, le schioppettate e le coltellate nostre, il desiderio di morte, il desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, la nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorsoneria o di cannella, il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che voglia scrutare gli enigmi del nirvana. Da ciò proviene il prepotere da noi di certe persone, di coloro che sono semidesti, da ciò il famoso ritardo di un secolo nelle manifestazioni artistiche ed intellettuali siciliane. Le novità ci attraggono soltanto quando le sentiamo defunte, incapaci di dar luogo a correnti vitali. Da ciò l'incredibile fenomeno della formazione attuale, contemporanea a noi, di miti che sarebbero venerabili se fossero antichi sul serio, ma che non sono altro che sinistri tentativi di rituffarsi in un passato che ci attrae appunto perché è morto. Non ogni cosa era compresa dal buon Chevalier, soprattutto gli riusciva oscura l'ultima frase. Aveva visto i carretti variopinti trainati dai cavalli impennacchiati e denutriti, aveva sentito parlare del teatro di burattini eroici, ma anche lui credeva che fossero vecchie tradizioni autentiche. Disse, ma non le sembra di esagerare un po', principe? Io stesso ho conosciuto a Torino dei siciliani emigrati, Crispi per nominarne uno, che mi sembra sono sembrati tutt'altro dei dormiglioni. Il principe si seccò. Siamo troppi perché non vi siano delle eccezioni. Ai nostri semi desti del resto, avevo già accennato. In quanto a questo giovane Crispi, io, non certamente, ma lei potrà forse vedere se da vecchio non ricadrà nel nostro voluttuoso vaneggiare. Lo fanno tutti. D'altronde, vedo che mi sono spiegato male. Le ho detto i siciliani. Avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l'ambiente, il clima, il paesaggio. Queste sono le forze che insieme, forse più che le dominazioni strane e gli incongrui stupri, hanno formato l'anno. Questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza, la sciva e la sprezza dannata, che non è mai meschino, terra, terra, distensivo, umano, come dovrebbe essere un paese fatto per la dimora di esseri razionali. Questo paese che a poche miglia di distanza all'inferno attorno al Randazzo è la bellezza della Baia di Taormina. Ambe due fuori di misura, quindi pericolosi. Questo clima che ci infligge sei mesi di febbre a quaranta gradi, li conti, scevoli e li conti, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sei volte trenta giorni di sola strapiombo sulle teste. Questa nostra estate, lunga e tetra, quanto l'inverno lusso, e contro la quale si lotta con meno successo, lei non lo sa, ma da noi si può dire che nevica fuoco, come sulle città maledette della Bibbia. In ognuno di quei mesi, se un siciliano lavorasse sul serio, spenderebbe l'energia che dovrebbe essere sufficiente per tre. E poi l'acqua che non c'è, o che bisogna trasportare da tanto lontano, che ogni sua goccia è pagata da una goccia di sudore. E dopo ancora, le piogge, sempre tempestose, che fanno impazzire i torrenti asciutti, che annegano bestie e uomini proprio lì dove una settimana prima le une e gli altri crepavano di sete. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti, anche, del passato, magnifici ma incomprensibili, perché non edificati da noi, e che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti. Tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi, che si sono espressi soltanto con opere d'arte, per noi enigmatiche, e con concretissimi esattori d'imposte, spese poi altrove. Tutte queste cose hanno formato il carattere nostro che rimane così condizionato da fatalità esteriori, oltre che da una terrificante insularità di animo. L'inferno ideologico evocato in quello studiolo sgomento a scevalie più della rassegna sanguinosa della mattina. Voglio dire qualcosa, ma Don Fabrizio era troppo eccitato adesso per ascoltarlo. Non nego che alcuni siciliani trasportati fuori dall'isola possano riuscire a smagarsi. Bisogna però farli partire quando sono molto, molto giovani. A vent'anni è già tardi. La crosta è già fatta. Dopo rimarranno convinti che loro è un paese come tutti gli altri, scelleratamente calugnato, che la normalità civilizzata è qui, la stramberia fuori. Ma mi scusi, scevalier, vi sono lasciato trascinare e l'ho probabilmente infastidito. Lei non è venuto sin qui per udire Ezechiele e deprecare le sventure di Israele. Ritorniamo al nostro vero argomento. Sono molto riconoscente al governo di aver pensato a me per il Senato, e la prego di esprimere a chi di dovere questa mia sincera gratitudine, ma non posso accettare. Sono una rappresentante della vecchia classe, inevitabilmente compromesso col regime borbonico e adesso legato dai vincoli della decenza in mancanza di quelli dell'affetto. Appartengo ad una generazione disgraziata, a cavallo fra i vecchi tempi ed i nuovi, e che si trova a disagio in tutti e due. Per di più, come lei non avrà potuto fare a meno di accorgersi, sono privo di illusioni. E che cosa se ne farebbe il Senato di me? Di un legislatore inesperto cui manca la facoltà di ingannare se stesso? Questo requisito essenziale per chi voglia guidare gli altri? Noi della nostra generazione dobbiamo ritirarci in un cantuccio e stare a guardare i capitomboli e le capriole dei giovani attorno a quest'ornatissimo catafalco. Voi adesso avete bisogno di giovani, di giovani svelti, con la mente aperta al come più che al perché, e che siano abili a mascherare, a contemperare, volevo dire, il loro preciso suo interesse particolare con le vaghe idealità politiche. Tacque. Lasciò in pace San Pietro. Continuò. Posso dare a lei un consiglio da trasmettere ai suoi superiori? Va da sé, principe. Esso sarà certo ascoltato con ogni considerazione, ma voglio ancora sperare che invece di un consiglio vorrà darci un assenso. C'è un nome che io vorrei suggerire per il Senato, quello di Calogero Sedara. Egli ha più meriti di me per sedervi. Il casato, vi è stato detto, è antico, o finirà con esserlo. Più che quel lei chiama è il prestigio, egli ha il potere. In mancanza dei meriti scientifici, ne ha di pratici, eccezionali. La sua attitudine durante la crisi del maggio scorso, più che ineccepibile, è stata utilissima. Illusioni non credo che ne abbia più di me, ma è abbastanza svelto per sapere crearsene quanto occorra. È l'individuo che fa per voi, ma dovete far presto, perché ho inteso dire che vuol porre la propria candidatura alla Camera dei Deputati. Di Sedara si era molto parlato in prefettura. Le attività di lui, quale sindaco e quale privato, erano note. Chevalier sussultò. Era un onestuomo, e la propria stima nelle Camere legislative era pari alla purità delle proprie intenzioni. Per questo credette opportuno non fiatare. E fece bene a non compromettersi, perché infatti, dieci anni più tardi, l'ottimo don Calogero doveva ottenere il laticlavio. Benché onesto, però, Cevalier non era stupido. Mancava sì di quella prontezza di spirito che in Sicilia usurpa il nome di intelligenza, ma si rendeva conto delle cose con lenta solidità, e poi non aveva la impenetrabilità meridionale agli affanni altrui. Comprese l'amarezza e lo sconforto di don Fabrizio. Rivide in un attimo lo spettacolo di miseria, di abiezione, di nera indifferenza nel quale per un mese era stato testimonio. Nelle ore passate, aveva invidiato l'opulenza, la signorità di Salina, adesso ricordava con tenerezza la propria vignucola, il suo montezuorlo vicino a Casale, brutto, mediocre, ma sereno e vivente. Ebbe pietà tanto del principe senza speranza, come dei bimbi scalzi, delle donne malariche, delle non innocenti vittime ai cui elenchi giungevano così spesso al suo ufficio, tutte uguali, in fondo, compagni di sventura segregati nel medesimo pozzo. Vole fare un ultimo sforzo. Si alzò, e l'emozione conferiva pathos alla sua voce. Principe, ma è proprio sul serio che lei si rifiuta di fare il possibile per arleviare, per tentare di rimediare allo stato di povertà materiale, di cieca miseria morale delle quali giace questo che è il suo stesso popolo. Il clima si vince, e ricordo dei cattivi governi si cancella. I siciliani vorranno migliorare. Se gli uomini onesti si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli e senza prospettive, ai sedara, e tutto sarà di nuovo come prima, per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Collabori. Don Fabrizio gli sorrideva. Lo prese per la mano, lo fece sedere vicino a lui sul divano. Lei è un gentiluomo, chevalier, e stima una fortuna averlo conosciuto. Lei ha ragione in tutto. Si è sbagliato soltanto quando ha detto, i siciliani vorranno migliorare. Le racconterò un aneddoto personale. Due o tre giorni prima che Garibaldi entrasse a Palermo, mi furono presentati alcuni ufficiali di marina inglesi, in servizio su quelle navi che stavano in rada per rendersi conto degli avvenimenti. Essi avevano appreso, non so come, che io posseggo una casa alla marina, di fronte al mare, con sul tetto una terrazza dalla quale si scorge la cerchia dei monti intorno alla città. Mi chiesero di visitare la casa, di venire a guardare quel panorama nel quale si diceva che i Garibaldini si aggiravano e nel quale le loro navi non si erano fatti una idea chiara. Vennero a casa. Li accompagnai lassù in cima. Erano dei giovanottoni ingenui, malgrado i loro scopettoni rossastri. Rimassero estasiati dal panorama, dell'erruenza della luce. Confessarono però che erano stati pietrificati osservando lo squallore, la vetustà e il suddiciume delle strade di accesso. Non spiegai loro che una cosa era derivata dall'altra, come ho tentato di fare a lei. Uno di loro, poi, mi chiese che cosa veramente venissero a fare, qui in Sicilia, quei volontari italiani. «They are coming to teach us god manners», risposi. «But one succeed, because we are gods». Vengono per insegnarci le buone creanze, ma non lo potranno fare, perché noi siamo dei. Credo che non comprendessero, ma risero e se ne andarono. Così rispondo anche a lei, caro Chevalier, i Siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti. La loro vanità è più forte della loro miseria. Ogni intromissione di estranei, sia per origine, sia anche, se si tratti di siciliani, per indipendenza di spirito, sconvolge il loro vaneggiare di raggiunta compiutezza. Rischia di turbare la loro compiaciuta attesa del nulla. Calpestati da una decina di popoli indifferenti, essi credono di avere un passato imperiale che dà loro diritto a funerali sontuosi. Crede davvero, lei esceva di è, di essere il primo a sperare di incanalare la Sicilia nel flusso della storia universale? Chissà quanti imani e musulmani, quanti cavalieri di re Ruggero, quanti scrivi degli svevi, quanti baroni angioini, quanti registi del cattolico, hanno concepito la stessa bella follia. E quanti vicere spagnoli, quanti funzionali riformatori di Carlo III, e chissà più chi siano stati. La Sicilia ha voluto dormire, a dispetto delle loro invocazioni. Perché avrebbe dovuto ascoltarli se è ricca, se è saggia, se è onesta, se è da tutti ammirata e invidiata, se è perfetta, in una parola? Adesso, anche da noi si va dicendo in ossequio a quanto hanno scritto Prudonne, un ebriuccio tedesco del quale non ricordo il nome, che la colpa del cattivo stato delle cose, qui ed altrove, è del feudalesimo, mia cioè, per così dire, sarà. Ma il feudalismo c'è stato dappertutto, le invasioni straniere pure. Non credo che i suoi intenati, i chevalier, o gli squires inglesi, o i signori francesi governassero meglio di Salina. I risultati, intanto, sono diversi. La ragione della diversità deve trovarsi in quel senso di superiorità che barbaglia in ogni occhio siciliano. Che noi stessi chiamiamo fierezza, che in realtà è cecità. Per ora, per molto tempo, non c'è niente da fare. Compiango. Ma, in via politica, non posso porgere un dito, me lo morterebbero. Questi sono discorsi che non si possono fare, siciliani. Ed io stesso, del resto, se queste cose le avesse dette lei, me ne sarei avuto a male. È tardi, chevalier, dobbiamo andare a vestirci per il pranzo. Debo ricitare per qualche ora la parte di uomo civile. L'indomani mattina, presto, chevalier ripartì, e a don Fabrizio, che aveva stabilito di andare a caccia, riuscì facile accompagnarlo alla stazione di posta. Don Ciccio Tumeo, era con loro, e portava sulle spalle il doppio peso dei due fuscili, il suo e quello di don Fabrizio. E dentro di sé, la biglia delle proprie virtù conculcate. Intravista, nel chiarore e libido delle cinque e mezzo del mattino, donna Fugata era deserta, ed appariva disperata. Dinanzi a ogni abitazione i rifiuti delle pense miserabili si accumulavano lungo i muri lebrosi. Cani, treme e bondi, li rimestavano con avidità sempre delusa. Qualche porta era già aperta, ed il lezzo dei dormienti pigiati dilagava nella strada. Al barlume dei lucignoli, le madri scrutavano le palpebre tracomatose dei bambini. Esse erano quasi tutte in lutto, e parecchie erano state le mogli di quei fantocci sui quali si incespica agli svolti delle trazzere. Gli uomini, abbrancato lo zappone, uscivano per cercare chi, a Dio piacendo, desse loro lavoro. Silenzio atono o stridori esasperati di voci isteriche. Che, dalla parte di santo spirito, l'alba di stagno cominciava a sbavare sulle nuvole plumbe. Chevalier, pensava, questo stato di cose non durerà. La nostra amministrazione, nuova, agile, moderna, cambierà tutto. Il principe era depresso. Tutto questo, pensava, non dovrebbe poter durare, però durerà. Sempre. Il sempre umano, ben inteso, un secolo, due secoli. E dopo sarà diverso, ma peggiore. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene. E tutti quanti i gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra. Si ringraziarono scambievolmente. Si salutarono. Cevalier si inerpicò sulla vettura di posta, issata su quattro ruote color di vomito. Il cavallo, tutto fame e piaghe, iniziò il lungo viaggio. Era appena giorno. Quel tanto di luce che riusciva a trapassare il coltrone di nuvole, era di nuovo impedito dal suddiciume il memoriale del finestrino. Cevalier era solo. Fra urti e scossoni si bagnò di saliva la punta dell'indice. Ripulì il vetro per l'ampiezza di un occhio. Guardò, dinanzi a lui, sotto la luce di cenere, il paesaggio sobbalzava, il re di Mipi.